Ciao a tutti ragazzi, sono Edoardo e oggi parliamo un po' del mio canale. Allora, oggi sono andato a controllare il mio canale, ho visto già 3 iscritti e 11 visualizzazioni. Grazie a tutti gli iscritti e grazie per i commenti soprattutto. Mi sapevo un segreto, era solo un commento. E' tutto il giorno che non ci dormo sopra, è tutto il giorno. Non è vero, come dice la mia tarta ruga, non ce ne deve fregare niente. Buttiamo alla, e allora oggi parleremo di... Di... Video? Sì, video, video, video. Video, video, video. Cazzo, che cazzo guardi. Dai ragazzi, invece di scherzare parliamo chiaramente perché... Non so cosa inventarmi, oltre ai vlog. E datemi voi un aiuto. Ditemi cosa volete che compaia nel mio canale. Io lo farò, ci proverò. E ditemi cosa posso installarmi per fare dei video di Minecraft che possono vedere... Venire abbastanza bene. Una risoluzione video abbastanza bene. Il 720p, o anche il 1020. Quello che vi passa. Come tutti youtuber è da poco cominciato. Sono... Non sono professionista. E... Sentirete un po' la voce... Beh... Beh... Perché uso la telecamera... Una Corpix, Nikon, diciamo. Anche se è una bella marca, comunque... La voce me la cambia, farò la Fabio... E allora io vi dico... Aiutatemi che mi sarete molto... Di aiuto. Spero che vi piaccia il mio canale. Ora... Gestione video, vediamo cosa ha caricato. Allora, un milkshake. L'impasto, sì, sì. Questo. Allora, commenti due. Oh, oh. Due commenti. Allora, vediamo i miei due commenti. Vediamo i commenti. I commenti... Vediamo i commenti... Sì. Due commenti, giusto? Ta. 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 Sì, è venuto abbastanza bene. Allora, vi dico... Subito che non sono quindi... Professionista. Spero che vi sia piaciuto il video. Iscrivetevi al mio canale... E mettete sempre un mi piace... E una... Un commento... Sotto... Qui... Così... Saprò cosa fare. Da me... La mia freccia. I miei soldi. E YouTube è tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.